It's me, Mario! Io registro i gameplay su Wii U e quindi è stata una settimana un po' travagliata, però spero di aver risolto un po' i problemi via software, almeno io veramente ci spero tantissimo perché altrimenti saranno guai, ecco, vediamo un po' se così le cose funzioneranno un po' meglio. Comunque, allora, iniziamo questo episodio 270 di Super Mario Maker, mamma mia, quante ne sono passate da quando abbiamo iniziato la serie, primo livello che ci prestiamo a vedere di Tommaso, si chiama Mizzica, inventato in giù Super Mario Bros. U, per centone di vittoria 20,83%, tentativi 24, uscite 5, record di Luigi Egyu in 16 secondi e quant'era? 455 millesimi. Ok, benissimo, iniziamo subito e andiamo un po' a vedere cosa ha creato Tommaso, sarà un livello difficile, tra l'altro io chiedo ovviamente scusa a tutti quanti per gli eventuali ritardi che sicuramente ci sono, no, 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 via, via, di qui, via, un pau, non so, ok, l'importante è averlo usato, passiamo di sopra già che ci siamo, ok, benissimo, poi lunghi così e poi via lunghi, picchiamo il salto e finiamo il livello così, grandi in questo modo. Bene Bowser, sai, bene, anzi, bene ai Bowser, perché non era uno solo, erano tre, ben tre Bowser, cioè erano prima. L'importante è averlo fatto, grandi in questa maniera, ho visto che c'erano comunque la possibilità di fare in due modi, cioè passare di sopra come ho fatto io, oppure passare di sotto, visto che c'era comunque modo farlo, quindi ottimo così, Tommaso, livello breve, ma comunque carino, se non altro carino. Nella stella, quindi, te la lascio per questo. A tra un attimo con il secondo livello di questo video. È Normal Ship's Life Very Hard di Lele, è ambientato in Super Mario Bros, percettare le vittorie 4,16% di attività di 24 riusciti 1, record di un belga, si chiama Bryce, in quanto ci ho messo? 2 minuti e 33 secondi, 925 millesimi. L'ID come sempre sotto lo screenshot, tra l'altro mi sembra abbastanza tostarello. Come funziona lì, perché c'è, ah, c'è un tubo, ok, mi sa che ci sarà un underworld, quindi, da qualche parte da prendere in quel tubo, che credo, che ho visto nell'anteprima, ma in ogni caso vediamo un po', uh, che carina, su venta, no, 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 non tirate, no, ci sono anche i lachituri sopra, via di qui, ok, perfetto. C'erano i lachituri sopra, me l'ho già presa male, ok, sinistra, no, lo sapevo che era troppo semplice passare di qua, comunque noi riusciremo a morire, presumo, no, 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 quasi, ce l'avevo quasi fatta a morire dopo, perché vedo che c'erano altri twomp, quindi dettagli, passiamo di qua, va, che è meglio, ok, dice che abbiamo preso la strada, la, il categnaccio in testa dice che abbiamo preso sopra tutto in questo momento, benissimo. Sembra che comunque sia la strada giusta questa, vediamo un attimo di fare le cose fatte male, perché noi ci riesce benissimo a fare le cose fatte male, tipo così, grandi, vai così, no, voglio, è il tuo potenziamento, e qui io dove diamine, ah, devo fare la strada a lui, tra l'altro l'ha già fatta, grandi così, mamma mia, quanto c'è mancato, ho detto stai a vedere che ora ci sono rimasto lì, eh, vediamo un po', c'è mancato tanto, oh, saliamo, no, 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 i calamachi qui, no, 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 no Sono grandi così, grandissimi, ho visto una quantità enorme di nemici provenire lì da destra, che non sono neanche riuscito a capire cos'erano effettivamente, ho visto di tutto, io non ho idea di cosa fossero, ma va bene così, l'importante è aver preso la cima della bandiera, che sono sempre soddisfazioni, tra l'altro nuovo record, grandi così, la stella te la meriti, lei, è veramente bello il livello, mi sono divertito parecchio a farlo, oh, ti chiedo però una cosa, Hai visto che hai messo la strada giusta e la strada sbagliata, della parte sinistra è quella sbagliata, la parte destra è quella giusta, ma effettivamente, provando ad arrivare in fondo alla strada sbagliata, cioè la parte sinistra, lì al checkpoint, si arriva da qualche parte, cioè si riesce lo stesso a finire il livello o succede qualcosa in particolare? Rispondimi nei commenti, se ti va, lei mi farebbe molto piacere, a tra un attimo con il terzo livello, Michael ci porta il suo The Factory of Shoes, l'industria delle scarpe, questa me la devo, ve la devo vedere, perché prevedo Tragedia in male, comunque, metà del Super Mario Bros 3, i percentuali vittorie 4,22%, tentativi 71, riusciti 3, pochini, record in un minuto 16 secondi 533 millesimi Luigi Eju, allora, vediamo un po' cosa succederà qui, perché effettivamente 71 tentativi riusciti solo i 3, è qualcosa che non sarà esattamente semplicissimo, mi sa, a questo livello, allora, intanto qui rischiamo subito, appunto, Oh, no, 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 oddio mio quanto c'è mancato, ok, è più problematico di quello che pensa, è molto più problematico di quello che pensa, benissimo così, tecnicamente comunque si dovrebbe fare abbastanza bene, allora, vediamo un po' di fare le cose come si deve Allora, ok, vediamo di non perdere il potenziamento, poi facciamo così, stiamo qui in cima, tu ti lancio di qua, poi qui passiamo sotto, perfetto, ok, se non altro era, fattivi, no, grandi, la scarpetta, grandi No, volevo il tacco, ormai mi sono affezionato, però comunque va bene anche così, ok, rivolgo la scarpetta, grazie, gentile, Goomba, caro Goomba, grazie mille per avermela riportata, molto, molto gentile Allora, ogni tanto che i Goomba servono a qualcosa e funzionano, benissimo così, passiamo quindi sopra, il tacco, il tacco, no, 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 era doppia, sto per, ok, ho preso il tacco, non so come, ma l'ho preso No, Kamek, Kamek mi ha tolto, credo, la scarpetta di sotto, vi giuro, mi sembrava di averla, mi sa che è stata Kamek, è stato Kamek, maledizione Ok, siamo tornati qui, vediamo un po' di riprendere, no, non lo riprendiamo il tacco stavolta, vabbè, sono soddisfazioni lo stesso, qui, intanto vediamo di distruggere più cose possibili Kamek, ok, stavolta Kamek non ci darà più fastidio, benissimo, ma le punginelle, sì, sì, si distruggono anche le punginelle No, mia, quelle enorme, grandi, no, volevo, volevo, volevo l'altra, quella, non te, ma, ben sì, tu, no, aspetta che ce la fa Maledizione, volevo quella con le ali, ok, ce l'abbiamo fa Bene, abbiamo quella piccola, ma, ok, non abbiamo più scarpe e andiamo senza Aia, aia, questo potrebbe essere un problema, questo potrebbe essere un grosso, grossissimo problema Come ho fatto a non morire, non lo so, non lo so, lì ho saltato perché volevo controllare se c'erano magari qualche, qualche potenziamento, qualcosa del genere Ah, goomba, basta, ok, preso il tacco, bene così Gno, 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 via sopra, grandi cosi, no, dov'è la scarpetta, dov'è, dov'è, qui, bassi, ok, importante aver preso questa Benissimo, quest'altra scarpetta la togliamo, ok, ma con la scarpetta possiamo saltare sopra, sì, saltiamo sopra Bowser Jr., che figata Questa non me, ah, no, oddio mio quanto c'è mancato Questa non me l'aspettavo comunque, eh, dicevo, questa non me l'aspettavo, non avevo mai, vi giuro, mai, mai provato A salire sopra Bowser Jr. con la scarpetta, per vedere se effettivamente si poteva stare lì sopra Stupendo questo livello, i miei complimenti, veramente, bellissimo livello Tra l'altro il nostro Mario è rimasto lì con la scarpettina E l'importante è questo, vabbè, l'hai lasciato qui, lasciamo qui il nostro Mario in questo momento Sono soddisfazioni anche queste Caro Michael, complimenti per il tuo livello, bellissimo, veramente, veramente bello Mi è piaciuto molto, oh, la stella te la meriti, te la sarà meriti, direi, per questo livello Tra l'altro mi sono divertito un sacco con tutte quelle scarpette, veramente molto, molto divertente, bravo Michael Direi che con questo video ci possiamo salutare qui, però prima volevo fare i saluti che non avevo fatto nell'episodio 269 Chiedo scusa tra l'altro Un saluto quindi ad Ahmed Un saluto a Xirios78 Un saluto a Laksan3000 E un saluto a Claren004 Chiedo scusa ovviamente se l'altra volta hanno fatto i saluti Spero di aver detto i nomi correttamente perché ormai mi conoscete Con i nomi ho dei problemi grossi, dei grossissimi problemi con i nomi Quindi se li sbaglio non vi preoccupate, vi chiedo scusa in anticipo Un saluto ancora da Axios00 Io vi ricordo se vi fa di iscrivermi in canali Facebook e Twitter Se vi fa di seguirmi sul Miiverse e su Telegram E sempre se vi fa di aggiungermi agli amici di Steam Se avete un PC ovviamente Trovate comunque tutti i link del caso e tutti i lead del caso In descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale Un saluto ancora da Axios00 E alla prossima Ciao Ciao